Ciao a tutti, io sono Rotus, bentornati sul mio canale. Non so se la registrazione è iniziata un pelo dopo, però siamo di nuovo qui su Curse of Delicious perché voglio fare un pochino di pulizia. Gli ho deliverato tanti oro, adesso andiamo a recuperare gli oro che ci meritiamo. Quindi andiamo a rifare tutti quegli argento maledetti che ci portiamo appresso con gran peso. No, voglio saltare la storia perché già la conosciamo e sarà anche pesante dover rifare tutti gli step del tutorial. Perché ce li fa fare? Ok, non ti preoccupare. Abbiamo i pretzel con l'A, C, non l'ho messo, ok, A, G, grazie. Ho sicuro di aver premuto G, probabilmente ho premuto C nel momento in cui c'era attiva la schermata che diceva Premi in qualsiasi tasto per passare, per procedere, e ho capito, però se io sono ormai nella zona mi stai interrompendo la procedura. Non ha senso quello che sto dicendo, ma ha senso la mia testa. Sto registrando di seguito, devo ancora mangiare. Ho un certo appetito che sta salendo e ho la testa annebbiata. Vuoi seriamente che li premi a tutti perché mi insegni dopo dell'auto delivery, ok? Possiamo farlo? Ah, no, non è un problema. Unbelievable! Grazie, vabbò. Grazie, e vorrei... Ah, uno... Ah, non mi ricordavo come si fa. Waffle close. Ok. Che palle! Io voglio fare altre cose in holding station, ma non posso fare, devo aspettare. Quindi dip... No, non lo vuole di pato, vuole due di cioccolato. Minchia, stavo già sbagliando. Perché non me lo fa... non ho potuto provarlo prima di averlo a menù. Cosa che per me è fondamentale, giustamente. Cioè, ci sta come... bene o male come tutorial, eh? Che ti insegna le basi. Ah, bella, che mi hai dato già la possibilità di consegnare tutto. Grazie. Quindi andiamo a fare altri di questi. German pretzel. F5 A German pretzel. F6 A German pretzel. Qui vuole waffle. E chiudo. Vediamo di non prendere un brutto voto anche qua, eh? Vabbè, cioè, siamo qui per far loro. Quindi, tutto sommato, non c'è niente. Praline con che lettera? Ecco la P. Ok. Non c'è niente di troppo arduo. Dobbiamo solo cercare di non smarronare da Babby. Come sempre, perché poi smarroniamo sempre da Babby. Non c'è altro modo di smarronare per noi. Cookie dough. Ok, eccola D. 5 waffle and clothes. 4 vuole vaniglia. Che con la V. E Rocky Road. Perché nessuno ci vuole il cioccolato sulla Waffer? Cioè io ce lo voglio di brutto. 5 abbiamo Rocky Road. E... Ma lo prendo proprio con calma. Bene. Per un conto è se li ho provati e so quali sono le sigle, ma se non le so. Questo lo vuole dippato. Praline abbiamo detto che la P e butter P e B. Ah, non ho più pretzel. Vabbè. Sherman pretzel. E classic pretzel. Ultima tappa. Quindi ci siamo riportati a casa l'oro del tutorial. Non è emozionante questa prima parte. Però è anche vero che quanto dura. Adesso finiamo. Vediamo. Sono passati. Aspetta che sono tabato fuori. 3 minuti e 40. Quindi direi che è stata rapida e ci siamo portati a casa l'oro. D'altronde non potete lamentarvi. Uno, perché non potete. Perché sono difficile. Non è una democrazia questo canale. Due. Perché dai, vi ho portato la super tripletta. Nell'episodio precedente. Quindi non potete lamentarvi. Come fa il gelato a essere da zero? Questo davvero non lo capisco. Perché lo trovo molto complesso in realtà. Cioè non molto complesso, però devi switchare. E devi stare attento. Dato che stiamo rigiocando cose, non siamo qui per far soldi. Siamo qui per fare i menu che ci vengono bene. I menu che ci vengono bene. Quali sono? Duck. Senza ombra di dubbio. Le cose fritte non mi piacciono per niente. Questi ma ci dava pochi serving. E non mi ricordo la sigla. Era tipo P.I.S. No. Buona permanenza caprone. BPC. 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 Ah. BPC. Ok. Ok. Si può fare. Quindi ripenvenuto sanguinaccio. E... Sono tutti da zero. Ma quelli da zero a me non piacciono. La turkey leg. Come si fa? Non l'ho mai fatta. Quattro... Turkey leg. Le facciamo un po'. Oh magari è solo così ed è pronta eh. È proprio banale banale. Ok. Chi si lamenta però. Sono quattro serving che non è proprio il massimo. Però la fai così velocemente che oggettivamente. Chi ti ammazza? Dai mettiamoci la turkey leg. E... Wow che ammazza. Senza ombra di dubbio. Crab legs che si fanno facili. E... Non mi ricordo buta chimici che sigla era. Era coreani non preoccupatevi. Sì. Preferisco allora l'altro. Il domani resto solo. Già c'è. Ok. Quattiamoci a casa quest'oro facile. E rapido. E in dolore. Siamo pronti. Non ti preoccupare. De conflitto. Dark polo frae. Due. Abbiamo la B. Con... B. P. C. F3. Abbiamo la turkey leg. Che ne vuole un botto. Quindi devo farne un botto. C. Siamo a 8. E con questo siamo a 12. E siamo a posto. Questo è... Wow che ammazza. In F6 vogliamo avere qualcos'altro? Ma... Per ora no. Teniamolo libero per capire cosa ci servirà dopo. Se in realtà... Sai cosa? Ti faccio le turkey leg. Perché vanno tutte finite in pratica. Nella prossima... Nella prossima tappa. Un po' di relax. Ci vuole eh. Perché ho anche deciso... Volevo quasi terminare questa sessione di registrazione. Che come si era inteso sto registrando tutto nella stessa sera. Però mi sono anche detto... Boh è il momento giusto per fare gli oro passati. Per dimostrare che siamo davvero dei fieri. E quindi... Ho detto vabbè dai. Facciamolo. Anche perché sono cotto dalla sessione precedente. E... Facciamo di nuovo la Dark Polo Frey. Grazie. F5 lo mandiamo via. Ce ne facciamo degli altri. In F4... Scusate un attimo. Anche ho finito il discorso... Ho lasciato il discorso a metà. E non mi ricordo che la stessi dicendo alla fine. Niente. Dato che sono cotto dalla RAM precedente. Ci sta usare questa RAM come RAM rilassante. Per completare tutto. So che non è una RAM magari particolarmente entusiasmante da vedere. Anche se conoscendomi potrei comunque benissimo fare degli errori. Però... Perché no? Perché no? Io farei altro Dark Polo Frey. Rifaccio... Rifarei altro... BPC. Altro sanguinaccio. Facciamo... Decisamente. Altro sanguinaccio. E... No. F6 grazie. C. Turkey Leg. Ma... Sono tranquillo. Non sento la pressione. Cioè gli unici errori che potrei fare sono eroi da babbo. Mi peserebbero perché oggettivamente non ho voglia di fare degli eroi da babbo in questo momento. Pau che mazza. Però... Nessun problema dai. Cioè oggettivamente se non ci facciamo prendere... La devo smettere di utilizzare la parola oggettivamente così spesso. Oh finalmente. Domani resta solo. Mi piace il DRS perché sono tre lettere tutte adiacenti. Quindi con un dito riesco a farle molto velocemente. Come potete notare. Mi sta andando male il Dark Polo Freco A. E lo rifacciamo. DPF. E... 6. Abbiamo... Wow che mazza. Quanto serve? B... P... P... Non so perché mi ero fissato su... Oddio 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 oddio. Mi... Mi si sta fornendo un attimo il cervello. Mi si sta fornendo un attimo il cervello. Ok scusate. Wow. Ho avuto un attimo di defiance totale. Nel momento in cui ho capito che stavo facendo sanguinaccio nell'ordine sbagliata. Era BPC e non BCP. Il mio cervello ha detto no basta. I tuoi neuroni non funzionano più. Spegniti. E quindi sono rimasto bloccato. A bocca aperta con la bavetta che esce. Non so perché ho rifatto dell'anatra. Non mi serviva dell'anatra. Vabbè. Ci siamo rifatti la metaglia dorata. Perfetto. Quanto adoro questo gioco. Quanto adoro la colonna sonora di questo gioco. Quanto adoro qualsiasi cosa che sia concernente a questo gioco. Quanto siamo? 9 minuti. Possiamo fare ancora... Ben 2 run. Hai visto? A sto giro non va da numero di run ma va da numero di minuti. Perché ci sta adesso andare a minuti. Ma come l'altra volta in realtà. E il menu da 3 punti. Ok ok non ti preoccupare. Senza dubbio le uova. E senza dubbio questo. Che non mi ricordo come si fa ma non è un problema. Senza dubbio i fagioli. E siamo già ai punti che ho levato. Quindi facciamo le cose proprio facili. Vabbè. Se possiamo fare delle cose da 1 che costano un poco tipo questo. Le facciamo. Tipo questo lo facciamo. Tipo... Gioni Ghiri. E vabbè basta. Buon vecchio menu. Cose da 1 semplici. Rapide. Però così sblocchiamoci. Voglio platinarlo sto gioco. Dai raga. Dobbiamo platinarlo. Cioè siamo qui per questo. Siamo qui per questo. B. B. S. E B. Abbiamo... Bella sta musica. Questa base mi piace un sacco. Più fagioli. Sono tre tappe. Abbiamo gli Onigiri che arrivano subito messere. E... Abbiamo tutto per ora. Facciamo altre uova nel caso. Così. Tanto per... Su le mani. E... Dove la L? Dove la L? Perché... Questo nuovo setup... Oddio mi sta andando via la voce. Che... È molto buono per voi. Perché... Molto buono. Non... Non... Non sentite... Cioè si sente sempre un po' perché io... Picchio come un fabbro. Però non si sente così rumorosamente alla tastiera. Però ho il microfono esattamente davanti alla tastiera. E... È un problema perché... I tasti ogni tanto ci do buttare un occhio per vederli. Troppo potenti. Ehm... Lo so che siete orgogliosi di me. Ma che bella questa musica. Che voi non mi potete vedere ma sto... Ancheggiando con la testa. Che è una frase che non ha senso. Perché se ancheggi lo fai con le anche giustamente. Però... Credo che sia capitato... Sia capitato... Si sia capito... Il movimento che sto eseguendo. Ehm... Ok... Rifacciamo l'uno... L'uno... Perché no? B... Yes. Rifacciamo le uova... Ma giusto perché siamo perfezionisti eh. Cosa ci serve? Facciamo via i fagioli che rifacciamo... Con black bean seasoning. Quella là... MW. In F5 cosa abbiamo? Altre uova ci servono? Sì. Ehm... Quindi se non arrivano altri piatti dopo sto polpo... Ma almeno uno o altri due piatti dovrebbero arrivare infatti. Me ne aspetto almeno un altro se non altri due. Comunque dato che non ci va niente a male prima di arrivare. Direi che una volta finiti questi. Dovremo solo premere control. E siamo pronti ad andare. Come ho fatto a prendere l'argento qua? Cioè ci sta eh. Ovviamente era tipo il terzo livello che facevo. Dall'inizio del gioco. E ancora non sapevo niente. Ma soprattutto... E... Cioè entrare nella nuova mentalità. Di Cookserve Delicious 3. Che non è più... Arrivano gli ordini. Devo fare gli ordini. Ma mi preparo le cose. Perché sono in un food truck. Ho le cose pronte. Che al limite guarnisco e preparo. Mi piace troppo anche questo. Yes. It is. Bellissimo. Et voilà. Grazie. Prossima schermata. Platinato la. Che è molto bella come cosa. La B. Era già tutto d'oro. La C. Abbiamo... Quanto siamo di minutaggio? 14. Ne facciamo ancora un'altra. Possiamo fare la C. La D. La E. E... Facciamo la C. Perché c'è già un oro. Menù da tre punti. E... Muffi. Senza nobile di dubbio. Ecco. Queste sono menate. Perché io voglio cibi che sono pronti. Che vi servo già fatti. French Toast. Era... Eh... Invece no. Invece ci attacchiamo al cazzo. Facciamo i pancake. Facciamo i pancake. E però poi dopo... Cos'è l'okroshka? Perché mi dà l'idea di qualcosa di già pronto. Radish... Biff... Fatemi vedere le lettere. RB è uguale. Chicken è sempre K. Va bene. Cucumber U. Va bene. Poteto soggia messa sul cazzo. Un po' tanto pro. Non ho gli errori. Però vabbè. Proviamo un attimo. Cucumber U. Egg è la E. Poteto soggio. Poi io... Ah. YB. Ok. Riproviamo. Morelish. Cucumber. Egg. O. P. Ah. Si può fare in realtà. Ci vuole un po' però fa sette servings. Quindi se riesco sempre... A prepararlo... In realtà è molto facile. In tempo. Ok. Questo è uno di quelli che devo sempre avere pronti. Cioè ho preferito mettermi in uno da due. Piuttosto che è una cosa facile. Perché... Volevo avere più servings possibili pronti. E non voglio doverli fare sul momento. Come i pancake. Voglio avere quindi solo i pancake da fare al momento. Benvenuto a te. Benvenuto a te. E benvenuto a te. Andiamo sul facile. Siamo qui per fare dell'oro adesso. Cioè d'altronde non è che stiamo barando. Stiamo facendo... Seguendo le regole del gioco. E ci stiamo adattando. Quattro tappe. Odio quando abbiamo quattro tappe. Perché di solito... Faccio sempre dei gran casini. Reddish, chicken, cucumber, egg, potatoes and... Ah visto? Mi sono lamentato tanto ma alla fine... Spero che non vada male velocemente. F3. Abbiamo A, paper e banana che l'ha. Ok. F4. Abbiamo... Il pancake ma ne facciamo altri. Perché ne fa solo 5. E andiamo con il wow che mazza. Ok. Siamo... Pronti. Forse si consuma velocemente il nostro amico. Corani non preoccupatevi. Il nostro amico potrebbe dire il piatto russo. Quindi potrebbe non essere stata un'idea così geniale farne... Altri set. Però... Se comunque il trend è questo... Non dovrebbero esserci grossi problemi. Anzi sai cosa facciamo? Lo rifacciamo adesso. Con reddish, chicken, cucumber... Egg, potatoes... Ma non è così difficile. Credo di poterlo fare anche a qualsiasi momento. Quindi... Tutta la preoccupazione che avevo è scomparsa. Dimenticavo pancake e maple... Pancake e blueberry... Pancake e blueberry... Basta. Pancake e strawberry... 3 pancake e strawberry... Mentre rifai quello io rifaccio questi. Mi piace mettermi... Avanti. E... Pancake e maple. E... Sì io rifarei... Altri... Muffin senza un po' di dubbio. E in F4 farei decisamente altri pancake. E in F6 invece farei... Altro rosca... Radish, beef, chicken, cucumber, egg... Che non me l'ha messo? Potatoes. YB. Ok. Wow che mazza. CL. Wow che mazza. 4 wow che mazza. Let's go. Siamo pronti. Siamo pronti. In realtà ho dei pancake che vanno a male. Li rifacciamo. Non c'è problema. Anche perché ne voglio tanti. Dovrò rifare i pancake a metà. E questo un pochino mi pesa. Però... Non è anche così tanto. E cos'è questo? CL. Grazie. 7 CL. Ok. 8 pancake pecan. Ma guarda per me posso anche per me... Ok. Intanto guarda rifacciamo adesso. E ho 9-10 come priorità. Silenziorate un attimo. Solo perché sono un po' tante cose che se ne stanno andando. E 8 pancake blueberry. 2 pancake blueberry. 3 pancake maple. 4 pancake pecan. Servi il servibile. Servi. Ok. Ci siamo. 5 pancake blueberry. 6 pancake maple. Ho paura che finirò i pancake. Cioè. Li rifacciamo. Potevo fargli sul suo. Però già che ci siamo rifacciamoli. Per le prossime tappe. Abbiamo altre due tappe. Rifacciamo altre di questi. Rifacciamo la okroshka. Reddish beef. Chicken. Cucumber. Egg. Potatoes. Y. zombie. E 8. Abbiamo pancake e maple. In F5. Ah. Non vogliono altra. O tutto. Bonci. Quindi l'ultima tappa in realtà è quella meno preoccupante. Perfetto. Perfetto. Siamo tranquillissimi. Siamo tranquillissimi. Giustamente come dice questo piatto coreano. Non preoccuparti. E io non mi preoccupo. Non mi preoccupo per niente. Guarda. K. N. 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 L'Ultimo. Ah. Ok. Calma. Stavo già. Respirando troppo forte Per dire ti erano sospiro di sollievo Okroshka, radish, beef, cucumber Egg, oat Va bene, va bene, ci serviva un po' di pressione Ci serviva un po' di pressione E possiamo dimostrare che anche sotto pressione Noi siamo sempre All'altezza Del compito Radish, cucumber, diceg Potatoes And beets Che ci vuole? Che ci vuole? Pensate di farmi paura, vi sbagliate Vi sbagliate, so che mi manca un pancake Ma non preoccupatevi Mi vanno male i muffin Li rifacciamo Con P e L Mi sono sembrato preoccupato Oh no Ah sì, per questo Corani, non preoccupatevi E adesso è il momento di fare La parte più difficile Vado un attimo in silenzio radio P Blueberry 8 Pistroberry 4 Pistroberry 3 P Blueberry 10 P Maple Il 2 P Pecan Il 7 Pistroberry Il 9 Pistroberry E l'ho finito E l'ho finito come sapevo Potevo farglielo singolo Ma perché non specare il cibo Giusto per essere delle carogne Alla faccia di chi muore di fame Nei paesi più poveri Eeeh Eeeh Dai 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 Ti ci sarei abituata Uuuuh Uuuuh Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che prendiamo un upgrade E mi piacciono le upgrade Mi piacciono un sacco le upgrade Quindi prima di concludere questo video Ora potrei aumentare questi Però sinceramente Cioè sta più tempo Io vorrei tanto andare a questo Quindi io mi farei questo 4 punti Ah però solo un punto Per avere questo Quindi direi che al prossimo Potremo fare questo E poi potremo livellarci questi Però ho la holding station in più E' vero che ne abbiamo tante Per ora non sentiamo il bisogno Di una holding station in più Vuol direi Proviamo ad accumulare E vediamo se Quando ne abbiamo 4 Sentiamo il bisogno Non lo so Non lo so Lo scopriremo Lo scopriremo Eeeh Io spero che questo episodio Vi sia piaciuto Eeeh Eeeh Ok Io spero che questo episodio Vi sia piaciuto Se è piaciuto mettete mi piace Condividete con amici Possiamo piacere di genere Iscrivetevi al canale Se ancora non avete fatto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi